Come bis, vi proponiamo il brano che, come la tradizione, chiude il nostro concerto, con l'arrangiamento di Olivia Wigli Oswald. A voi, il celebre del brano di Aron Aram, Cantique de Noël. Sperando di aver fatto passare, e di aver fatto passare, mi inviaremo il nostro territorio a tutti i contesti. Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti.